Cudini, forse esagero un po', però il fatto di essere ritornati al successo che vi mancava da un po' di tempo vi ha tolto un peso in qualche modo, anche se la classifica rimane buonissima. Un peso proprio diciamo di no, sicuramente ci ha ridato quella tranquillità che ci mancava sotto l'aspetto dei tre punti, questo sì. Però, come ho detto anche in precedenza, i ragazzi avevano fatto buone prestazioni, ci era mancato solo il concretizzare quelle occasioni che facevamo, per il resto la squadra si è comportata bene. Tra l'altro forse è arrivata la vittoria nella partita forse meno brillante delle ultime fatte, questo sicuramente sì, però siamo contenti di questo. A volte succede proprio questo, che magari si semina poco ma si raccoglie il massimo, altre volte avete seminato sicuramente di più, avete raccolto magari dei pareggi o addirittura delle sconfitte. Allora, si guarda comunque avanti, no? Perché è un po' come la vita, il campionato. Tra l'altro voi giocherete in anticipo, non soltanto voi, anche altre formazioni abruzzesi. In trasferta sabato a Recanati. La Recanatese, come inquadrare questa formazione? È una formazione comunque di vertice? Sicuramente sì, sicuramente sì perché è formata da ottime individualità. È un organico costruito per stare nell'alta classifica. Quindi l'ha sempre dimostrato, a prescindere da un inizio di campionato un po' non felice, però ha delle qualità, soprattutto nel reparto offensivo, dove per la categoria forse è un lusso. Quindi di questo ne siamo consapevoli e dobbiamo stare molto attenti. Però ce l'andremo a giocare, come sempre abbiamo fatto, perché abbiamo anche noi delle individualità importanti. Sono tutto lì davanti, no? Sì, diciamo che il collettivo è l'arma in più di questo notaresco, sicuramente. Però abbiamo qualità per poter mettere in difficoltà anche la Recanatese. Allargando un po' il discorso, Cudini, in questo girone di ritorno è vero che inizia un po' per tutti un nuovo campionato dopo la sosta? Sì, credo di sì, perché poi adesso i punti valgono, valgono, gli obiettivi sono a portata di mano e quindi chi forse il giorno d'andata ha fatto un qualcosa di diverso, ora non se lo potrà più permettere, questo sicuramente sì. Noi abbiamo fatto un buon giorno d'andata anche sotto l'aspetto qualitativo e ho detto ai ragazzi che questo è il momento di raccogliere anche non essendo molto belli, questo sì. Quindi questo ti fa capire la difficoltà, la difficoltà a volte nei periodi di campionato dove non sempre si riesce a proporre quello che uno vorrebbe.